Arrestate due persone per porto e detenzione di arma da guerra aggravate dal metodo mafioso. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due baresi, Gaetano Capodiferro di 33 anni e Vito Romito di 30 anni, entrambi già sottoposti con provvedimento definitivo alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno gravemente indiziate di detenzione di arma da guerra aggravata dal metodo mafioso. Le indagini sono partite dopo l'esplosione di 12 colpi di arma da fuoco con un potente fucile mitragliatore da guerra a mezzogiorno dello scorso 9 gennaio, nel quartiere San Paolo di Bari. Le indagini hanno fatto emergere chiaramente che i due indagati, in concorso tra loro, hanno esploso i colpi di arma da fuoco con modalità plateali, al fine di incutere pubblico timore, lanciando in tal modo un messaggio intimidatorio. I due arrestati appartengono al clan Strisciuglio. Operazione Takeaway Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito a Bari un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, finalizzato ad alcuni sequestri patrimoniali, nei confronti di Domenico Sifanno di 38 anni, arrestato nel 2015 nell'ambito dell'operazione Takeaway per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e condannato per direttissima dal Tribunale di Bari. L'attività si è conclusa con il sequestro di disponibilità bancarie, beni e immobili per circa 500 mila euro, frutto degli illeciti guadagni accumulati nel tempo. L'indagine scaturisce dalle indagini svolte nel 2014 e 2015 dalle fiamme gialle del nucleo di Polizia Tributaria di Bari, in relazione al monitoraggio e dalla ricostruzione di numerose cessioni di cocaina verso altrettanti clienti e assuntori abituali e non. Il Sifanno svolgeva l'attività illecita durante il proprio turno lavorativo come dipendente dell'azienda ospledaliera Policlinico di Bari. Bari è monopoli, truffe agli anziani. Quattro sono stati tentativi di truffa messi in scena la scorsa settimana ai danni di persone anziane tra i 76 e gli 86 anni, a Bari e a monopoli da parte di finti avvocati o falsi appartenenti alle forze dell'ordine. I malviventi chiedevano denaro in cambio della chiusura bonaria per guai in cui i figli o i congiunti dei malcapitati sarebbero incappati. Fortunatamente si è trattato solo di tentativi di truffa grazie alla prontezza di spirito delle vittime che hanno subito sospettato il raggiro. Evidentemente la campagna di informazione a scopo preventivo attuata dal comando provinciale dei carabinieri di Bari, che invita gli anziani e chiunque si trovi sostanzialmente in situazioni di solitudine, a diffidare da coloro che spacciandosi per un avvocato o un carabiniere chieda del denaro, sta portando i frutti sperati. Chiama il 112, non temere di disturbare, questo è l'invito dei carabinieri, ogni qualvolta si presentano situazioni ambigue. Andrea facevano razzia di cartelli stradali per costruirci un gazebo. Sono stati sorpresi mentre sfilavano i pali zincati della segnaletica stradale e per questo sono finiti agli arresti domiciliari. E' accaduto ad Andrea dove i carabinieri hanno arrestato una 59enne, un 50enne e un 44enne, tutti incensurati del luogo con l'accusa di furto aggravato in concorso. I pali recuperati sono stati restituiti al comune per la ricollocazione. Sostanze chimiche in arrivo una rivoluzione, le imprese hanno due anni per mettersi in regola. C'è tempo fino al 31 maggio 2018 per adeguarsi ai regolamenti europei che impongono a tutte le aziende che producono o importano sostanze chimiche per almeno una tonnellata l'anno l'obbligo di registrarle. Queste norme comunitarie introdotte per la sicurezza dei consumatori produrranno una vera rivoluzione nel mondo della produzione. Chi non avrà registrato in tempo una sostanza non potrà più produrla sul mercato europeo e nello stesso tempo chi abitualmente la utilizza per fabbricare altri beni non potrà più farlo e perciò dovrà trovare alternative. L'entrata a regime del regolamento europeo investirà dunque trasversalmente tutto il mondo industriale e non solo le aziende del settore chimico. Campania mobile di educazione previdenziale INPS Martedì 17 maggio a Bari, prima tappa in Puglia del bus itinerante per la campagna di educazione previdenziale rivolta ai giovani e pensata dall'INPS per i lavoratori di oggi e di domani. L'iniziativa è tesa ad agevolare una migliore conoscenza del sistema previdenziale nazionale con una attenzione maggiore verso quanti si trovano ad avere i primi contatti con il mondo del lavoro. Obiettivo particolare dell'intervento, consentire alle nuove generazioni di costruire il presente e pianificare il futuro in modo consapevole. Per realizzare l'intervento, l'INPS si avvale della collaborazione del proprio personale dislocato sul territorio nazionale. Anas per lavori di ammodernamento da mercoledì 18 maggio limitazioni sulle strade statali 16, adriatica e 96 barese. Anas, attraverso una nota aggiunta in redazione, comunica che per lavori di ammodernamento da mercoledì 18 maggio saranno attive alcune limitazioni sulle strade statali 16, adriatica e 96 barese. Nelle province di Bari e Lecce. In particolare sulla strada statale 96 barese, per consentire i lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto Gravina-Bari, fino a venerdì 29 luglio 2016, è prevista la chiusura in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 87 al chilometro 88.9, con deviazioni del traffico sulle strade complanari. Contestualmente, il provvedimento prevede la riapertura a doppio senso di circolazione del tratto dal chilometro 88.9 al chilometro 88.3, sulla vecchia sede precedentemente interdetto al traffico. I lavori si svolgeranno all'interno del territorio comunale di Altamura e prevedono un aumento dei tempi di percorrenza di 15 minuti. Quattordicesimo concorso internazionale di disegno e arti figurative, diritti a colori. Fondazione Malaguti Onulus organizza il quattordicesimo concorso internazionale di disegno e arti figurative, diritti a colori, con il patrocinio della città di Suzzurra. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dei bambini ed onorare il 20 novembre, giornata universale sui diritti dell'infanzia. Questa edizione desidera ricordare l'articolo 14 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, per educare i bambini al rispetto e a combattere la discriminazione. Il concorso è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni di tutto il mondo. Quest'edizione si rinnova proponendo diverse modalità di partecipazione. Oltre alla realizzazione libera di disegni, si potranno creare installazioni, sculture di qualsiasi tipo e brevi filmati. I giovani artisti avranno la possibilità di sviluppare una maggiore creatività e capacità di attenzione al mondo che li circonda.